Musica Buona domenica e bentrovati al consueto riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Lunedì 30 novembre, grande successo a Bagheria per il primo congresso locale di Forza Italia. E' intervenuto telefonicamente il presidente Silvio Berlusconi che ha attaccato il Movimento 5 Stelle. Ovunque amministra lo fa molto male, un disastro se andasse al governo. Tutte le città che sono cadute sotto l'amministrazione dei 5 Stelle vanno malissimo. E a questo sappiamo che si aggiunge la catastrofe del governo regionale con quattro giunte in tre anni, con tutti i guai che certamente stamattina nei vostri interventi avete illustrato, che sono stati anche a me continuamente illustrati dai nostri amici siciliani. E quindi non sto a ripetere quello che già oggi voi avrete certamente messo in luce. Questi congressi danno la cartina di tornasole di quanto Forza Italia è di nuovo in crescita, della nuova discesa in campo del presidente Silvio Berlusconi che sentiremo fra breve, che farà l'onore a Bagheria e a tutta la Sicilia di intervenire a questo congresso cittadino, che come lei ha detto è il primo congresso cittadino di Bagheria. E oggettivamente noi tutti insieme con questi soci, con queste persone, creeremo i presupposti perché Forza Italia torni ad essere il primo partito italiano anche in Sicilia. Perché è fondamentale, la Sicilia è il nostro granaio di voti da sempre, la nomina commissario di Gianfranco Micicchè, grandissimo amico personale, sono 21 anni che militiamo insieme in Forza Italia, è una certezza per tornare a quel 61 a 0, che i cittadini della Sicilia, innanzitutto i siciliani, ma anche gli italiani si meritano. Noi oggi siamo un partito che ha avuto qualche difficoltà, non ce lo possiamo negare, ma dobbiamo ripartire, dobbiamo dimostrare di essere il vero centrodestra italiano, dobbiamo combattere contro partiti che andrebbero denunciati per furto ideologico, cioè si chiamano un nuovo centrodestra e stanno a sinistra, sia a livello nazionale che a livello regionale, dobbiamo fare capire alla gente il disastro che ha combinato il governo Crocetta, questo è il centrodestra, l'Italia è un paese di moderati, che ha sempre preferito il centrodestra alla sinistra italiana, noi dobbiamo dimostrare di essere il centrodestra, lo faremo lavorando moltissimo, girando tutta la Sicilia, paese per paese, per farci rivedere, per capire quello che serve alla gente e cercare di darglielo. Berlusconi ha dimostrato più volte che quando scende in campo realmente, quando comincia a girare dalla gente, riesce ad aumentare i consensi in maniera incredibile, noi per quello che possiamo e per quello che dobbiamo lo faremo qua in Sicilia, ma non c'è dubbio che se cominciasse a girare lui i dati cambierebbero improvvisamente e in maniera importante. Sì, infatti voglio proprio approfittare della vostra trasmissione per poter ringraziare davvero di cuore tutti i partecipanti, tutti gli amici, tutte le amiche, tutti i militanti che hanno voluto essere presenti ieri al Cinema Capito, l'abbiamo registrato un enorme successo, il cinema traboccava letteralmente di gente, c'erano tanti bagheresi, c'erano tutti gli esponenti di Forza Italia a livello regionale e nazionale, quindi io ringrazio di vero cuore davvero tutti quelli che hanno voluto essere presenti e mi consenta anche di porgere le mie scuse a tutti quelli che non sono riusciti ad entrare nella sala perché appunto la sala era stracolma di gente che purtroppo sono dovuti andare via. Io porgo a tutti loro le mie scuse, li ringrazio comunque per aver voluto essere presenti e voglio anche dare la motivazione della scelta della sala onde evitare pure sterili e noiose polemiche. La sala è stata scelta in virtù di motivi logistici, motivi di sicurezza e motivi tecnici che chi vuol conoscere in maniera più dettagliata può anche leggere in un'ianota che verrà a breve pubblicata nel sito di Bagheria News e dove spiego anche la motivazione della scelta della sala. Comunque davvero grazie a tutti, grazie ai presenti e grazie anche a chi non è potuto esserlo e a loro vanno chiaramente tutte le mie scuse. La sala che c'era a Piano Terra disponeva solamente di 40 posti in più. Erroneamente sono state fatte delle stime che non corrispondono al vero. Tra la sala del primo piano e quella del Piano Terra ci sono solamente 40 posti di differenza. I motivi sono stati logistici, cioè per permettere alle telecamere di riprendere meglio tutto l'evento dal momento che la sala non è su un unico livello ma è una sala che va a degradare e quindi consente la perfetta visibilità delle telecamere su quello che appunto accade e dentro la sala è sul palcoscenico. In più per motivi di sicurezza, perché avevamo bisogno di un corridoio centrale che dividesse le due aree di poltrone, cosa che c'era effettivamente nella sala che abbiamo scelto e che invece non c'è nella sala Piano Terra. Quindi per motivi di sicurezza lei sa perfettamente che è giusto poter andare alla gente, alla massa di gente che di solito viene in queste manifestazioni, più vie di passaggio. Quindi ci siamo sentiti di fare questa scelta, era doverosa, ripeto, per motivi di sicurezza, per motivi logistici e tecnici. Si scoprono in retroscena di un delitto di mafia avvenuto nel 2009 a Partanna. Dietro c'è l'ombra delle boss Matteo Messina Denaro. Si scoprono soltanto oggi in retroscena di un delitto di mafia avvenuto nel 2009 e commesso nella cittadina siciliana di Partanna. A incastrare i due responsabili, sospettati di far parte del clan mafioso dell'attitante Matteo Messina Denaro, un'intercettazione che non lascerebbe dubbi. Ad uccidere il 21 maggio 2009 il pregiudicato Salvatore Lombardo, di 47 anni, sarebbero stati Nicolò Nicolosi ed Attilio Fogazza. Nicolò si era stato già arrestato nel 2010 e da poco tempo era tornato libero. Fogazza invece non è stato mai raggiunto da provvedimenti giudiziari. Il fermo, su ordine della procura di Palermo, è stato eseguito nella notte. A incastrarli, un colloquio ha avuto poco tempo fa. Lombardo sarebbe stato ucciso perché sospettato dal clan mafioso di avere rubato un carico di merci destinato al supermercato Despar di proprietà di Domenico Scimonelli. Accusato di essere uno dei nuovi capi della Cosca e postino della titante Messina Denaro, nonché indagato quale mandante del delitto. L'uomo è stato arrestato poche settimane fa nell'ambito del blizz antimafia Hermès. L'uccisione di Lombardo avrebbe rappresentato in sostanza una criminale punizione. Con una scusa, quella sera fu trattenuto in un bar di Partan e nel frattempo arrivarono i killer, avvolto scoperto che lo colpirono senza pietà. Ma non è tutto perché le parole in libertà dei due sospettati avrebbero anche fatto cogliere malumori pesanti nei riguardi della titante Matteo Messina Denaro. Riaperta la statale Palermo Sciacca, secondo l'ANAS non ci sono pericoli per gli automobilisti. Chiusa e riaperta la statale Palermo Sciacca tra gli svincoli di San Cipirello e San Giuseppe Iato. La decisione è stata presa dai tecnici dell'ANAS dopo una serie di sopralluoghi. L'azienda ha anche comunicato che la condizione del viadotto Traversa 2 era già nota e che partiranno al più presso i lavori per sistemare il pilone ed i giunti di dilatazione. Secondo gli ingegneri dell'ANAS non ci sono pericoli per gli automobilisti. La chiusura era stata decisa dai carabinieri che avevano chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per valutare la stabilità del viadotto. Da verificare i lavori di scavo per costruire un immobile che si sta realizzando nei pressi del viadotto, lavori che avrebbero provocato l'allargamento del pilone. Anche l'amministrazione di San Giuseppe Iato sta verificando il rispetto di queste opere. In una nota l'ANAS ha spiegato che il viadotto che era già stato posto sotto costante monitoraggio dai tecnici è stato chiuso per motivi precauzionali dai carabinieri. Lo stesso personale ANAS si legge ancora giunto tempestivamente sul posto dopo un'attenta verifica finalizzata a focalizzare ulteriori problematiche relativa allo spostamento del pilone non ha riscontrato nuove anomalie e ne ha disposto la riapertura. Martedì 1 dicembre false assunzioni nei circhi arrestate altre 14 persone nell'ambito dell'operazione Golden Circus coinvolta anche una dipendente regionale. Altre 14 persone sono finite in manette nell'ambito dell'operazione Golden Circus che aveva portato in carcere nelle scorse settimane 36 soggetti coinvolti in un'organizzazione che utilizzava i circhi per regolarizzare decine di clandestini truffando sui documenti. In questa nuova tranche è finita agli arresti anche Anna Maria Cristina Mantione una dipendente regionale dell'ufficio speciale lavoratori extracomunitari dello spettacolo collega di Vito Gambino il dipendente regionale finito agli arresti nella prima operazione condotta dalla squadra mobile di Palermo lo scorso 10 novembre. La dipendente regionale dell'assessorato siciliano alla famiglia delle politiche sociali e del lavoro è accusata di favoreggiamento per avere dato a Gambino l'utilizzo di una poste pay dove far transitare le mazzette nei giorni scorsi durante l'interrogatorio lo stesso Gambino aveva ammesso di aver ricevuto denaro per regolarizzare le posizioni di numerosi clandestini tra gli altri arrestati della seconda tranche ci sono Guglielmo Alemanno che sarebbe uno stretto collaboratore dei vertici dell'associazione Salvatore D'Antona commercialista di Trapani Gaetano Pappalardo anche lui commercialista Giuseppe Bivona titolare di una struttura ricettiva di Agrigento ed altre nove persone in precedenza indagate ed ora sottoposte agli arresti domiciliari il nome dell'operazione spiegano dalla questura è di fantasia nulla a che fare con l'omonimo festival internazionale di Roma capitale Golden Circus Ancora blocco informatico alla regione siciliana stop a servizi sportelli sanitari pagamenti e pagina web a rischio anche le tredicesime la questione potrebbe finire in procura Secondo giorno di paralisi informatica alla regione siciliana servizi sportelli sanitari pagamenti anche la pagina web della regione e la posta tutto in tilta a causa dell'interruzione del collegamento con i server di Sicilia e Servizi la partecipata regionale responsabile della cruciale piattaforma digitale dell'ente pubblico a scatenare tutto un blocco del server deciso dall'ex socio privato di Sicilia e Servizi che ha staccato la connessione tra il cervellone informatico che si trova in Val d'Aosta e la regione per un credito nei confronti dell'ente pubblico lievitato fino a 114 milioni di euro il governatore Rosario Crocetta proverà oggi a trovare una soluzione ed un accordo con il socio privato nel frattempo però l'amministratore unico dell'azienda regionale Antonio Ingroia conferma di aver attivato un comitato di crisi lasciando intuire che la questione potrebbe addirittura finire in procura perché si legge in una nota si mettono in discussione i servizi essenziali dei siciliani e qualcuno dovrà rispondere dell'enorme danno al recato che si aggrava sempre di più nel frattempo è praticamente impossibile prenotare una visita o cambiare il medico inviare mail alla regione o riceverne visto che sono bloccati anche i servizi di posta è soprattutto impossibile predisporre per la regione le buste paga o pagare gli stipendi ma anche i mandati di pagamento verso i privati bloccata anche la spesa comunitaria che era in pagamento e di conseguenza la rendicontazione che scade il 31 dicembre l'aggiunta comunale di palermo ha approvato il progetto di riqualificazione dell'OZEN è prevista la realizzazione di un centro di quartiere il completamento della rete fognaria e la realizzazione di aree da destinare al verde pubblico l'aggiunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione di San Filippo Neri al fine di partecipare al bando per la presentazione delle proposte per la predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate con questo progetto afferma il sindaco Leo Luca Orlando si conferma l'attenzione dell'amministrazione comunale per il recupero e per i servizi da destinare a San Filippo Neri questo progetto insieme a quelli progettati e avviati per tante zone di Palermo dimostra come per la nostra amministrazione non esista una né tante periferie ma soltanto i tanti quartieri che insieme sono l'anima della nostra città il progetto approvato comprende una serie di interventi che consentiranno in tempi brevi la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali educativi e alla promozione delle attività culturali didattiche e sportive l'importo richiesto per l'attuazione del progetto di riqualificazione del quartiere Zen è pari a 12 milioni di euro mercoledì 2 dicembre operazione antimafia della polizia di stato assestato un duro colpo a Cosa Nostra a Grigentina arrestati i boss delle più importanti famiglie locali è ricostruita la mappa del pizzo una vasta operazione antimafia della polizia assestato un duro colpo a Cosa Nostra le squadre mobili di Palermo e Grigento hanno eseguito oggi 13 misure cautelari nei confronti di presunti esponenti e le famiglie mafiose di Agrigento e Portempedocle gli investigatori hanno accertato in particolare come non si sia mai spezzato lo storico vincolo tra le cosche palermitane e Agrigentine ricostruendo la mappa del pizzo imposto alle imprese in particolare Cosa Nostra avrebbe tentato di condizionare una serie di importanti opere tra cui costruendo un rigassificatore di Portempedocle e persino i trasporti con l'isola di Lampedusa il racket non avrebbe risparmiato neppure le attività di ristrutturazione di alloggi popolari le indagini hanno consentito di raccogliere numerosi elementi a carico del capo famiglia della cosca di Agrigento Antonino Iacono 61 anni e del capo famiglia della cosca di Portempedocle Francesco Messina 58 anni dalle indagini oltre alla supremazia dei due campi famiglia sono emersi i ruoli di spicco di altre persone Giuseppe Piccillo considerato uomo di fiducia di Iacono delegato all'organizzazione di incontri con esponenti mafiosi di altre famiglie locali e per conto del quale si sarebbe reso responsabile di alcune intimidazioni finalizzate all'estorsione a numerose imprese locali attive nel settore del calcestruzzo a Portempedocle invece emergono le figure di Francesco Capizzi e Francesco Tarantino ritenuti uomini di fiducia di Messina per conto del quale avrebbero portato avanti alcuna estorsione ad imprese edili della zona sarebbero stati loro a tentare di condizionare il trasporto da e per l'isola di Lampedusa nonché l'attività di ristrutturazione di alloggi popolari a Portempedocle tra gli arrestati anche Gioacchino Cimino e Grigentino di 61 anni anche lui ritenuto organico alla famiglia di Portempedocle Tornano in Sicilia i collegamenti e gli uffici della regione si sbloccano dopo due giorni di paralisi Nelle aziende sanitarie e negli ospedali siciliani da stamani è possibile prenotare le visite e pagare i ticket dopo 48 ore di caos e disagi per i cittadini che hanno fatto inutili code agli sportelli Ieri era stata una giornata di lunghe trattative e l'azienda aveva comunicato di essere disponibile a riattivare i servizi informatici in particolare quelli relativi alla sanità Stamane sono partiti gradualmente altri servizi Anche la pagina web della regione per due giorni indisponibile è tornata accessibile Ma sul caso non sciamano le polemiche Ieri l'ex PM Antonio Ingroia amministratore unico di Sicilia e Servizi ha presentato una denuncia al procuratore Francesco Lovoi per interruzione di pubblico servizio Ma questo non può bastare perché il problema deve essere risolto una volta per tutte dice Ingroia Non è concepibile che i siciliani vengano sottoposti a simili ricatti e comunque restano i danni che i siciliani hanno subito in questi due giorni Qualcuno dovrà rispondere per l'interruzione di un pubblico servizio Una situazione inaccettabile aggiunge Ciro Di Vuolo presidente del Corecom il comitato regionale per le comunicazioni rimasto coinvolto nella paralisi Questo è un problema imbarazzante che si trascina ormai da troppi anni è necessario che si trovi subito una soluzione Extra budget della formazione indagata Patrizia Monterosso il segretario generale della regione è stato interrogato dai pubblici ministeri di Palermo Poco tempo fa è stata condannata dalla Corte dei Conti a restituire 1,3 milioni di euro per gli extra budget della formazione adesso Patrizia Monterosso il segretario generale della regione siciliana si trova nuovamente nell'occhio del ciclone e finisce indagata anche dalla Procura della Repubblica sempre per la stessa vicenda ieri è stata interrogata per 5 ore dal pubblico ministero nell'ambito dell'inchiesta risultano indagati anche l'ex dirigente generale della formazione Anna Rosa Corsello di recente sospesa dal servizio nell'ambito di un'altra indagine e il dirigente Michele Lacagnina l'inchiesta riguarda appunto i cosiddetti extra budget e cioè le integrazioni concesse negli anni scorsi agli enti di formazione somme che si aggiungevano a quelle previste inizialmente dal piano dell'offerta formativa regionale integrazioni però come ha sottolineato la Corte dei Conti illegittime l'ex dirigente generale della formazione Anna Rosa Corsello già indagata da tempo aveva ricevuto dalla Monterosso un atto di diffida affinché riequilibrasse la situazione e così si arrivò al blocco dei finanziamenti dell'avviso 20 a diversi enti di formazione per recuperare gli extra budget degli anni precedenti un recupero che avrebbe potuto fare venire meno il danno erariale se non fosse che alcuni enti si sono poi opposti costituendosi in giudizio e sono stati gli stessi enti ad essersi ribellati alla compensazione a denunciare la faccenda alla Procura della Repubblica facendo scoppiare l'inchiesta giovedì 3 dicembre mafia blizz dei carabinieri del comando provinciale di Palermo smantellati i mandamenti di misilmeri Belmonte Mezzanio e Bolognetta 7 gli arresti i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti ritenuti irresponsabili a vario titolo di associazione mafiosa estorsione minacce aggravate dal metodo e dalle finalità mafiose nonché spaccio di sostanze stupefacenti e spendita di banconote contraffatte in manette Rosario Labarbera Gaetano Pravatà Alessandro Ginelli Giosuè Cucca Antonino Francesco Ciaramitano Pietro Formoso e Alessandro Ravesi le indagini rappresentano la prosecuzione delle attività che nello scorso mese di marzo portarono all'operazione Giafar e hanno consentito di raccogliere ulteriori risultanze in ordine agli assetti alle attività criminali del mandamento mafioso di Misilmeri Belmonte Mezzagno la consorteria mafiosa che comprende anche le famiglie di Bolognetta ha visto succedere al suo vertice capi di notevole caratura criminale inoltre le indagini hanno evidenziato come anche contesti territoriali extracittadini subissero le medesime incidenze malavitose proprie di Cosa Nostra che cercava di assicurarsi il controllo delle più significative espressioni dell'economia locale attraverso eloquenti atti intimidatori come apposizione di colla attac ed incendi di norma propedeutica in posizioni estorsive emblematiche a tal proposito le minacce perpetrate all'indirizzo di una nota macelleria al cui ingresso il suo titolare trovò dei crisantemi oltre che le saracinesche imbrattate da chiare scritte di avvertimento mafioso e l'attività estorsiva non risparmiava neanche le realtà economiche più modeste e il caso di un pescivendolo ambulante costretto a sborsare con non poche difficoltà 500 euro dinanzi alla fatidica frase ne abbiamo bisogno per i carcerati resta il rischio in via Calpurnio a Mondello ma gli abitanti sono tornati nelle loro case e il sindaco di Palermo ha firmato l'ordinanza il sindaco Lelucorlando che ha quindi revocato a quella emessa a seguito del crollo dei giorni scorsi secondo i tecnici incaricati insomma a urgenza degli accertamenti sulle pareti rocciose interessate dalla frana il crollo non ha innescato ulteriori cinematismi o dissesti e permangono le condizioni antecedenti all'evento nel provvedimento viene comunque ribadito che gli immobili oggetto dell'ordinanza in ogni caso rientrano in area PAI a rischio R4 dove in base alla classificazione nazionale sono possibili la perdita di vita umana o lessioni gravi alle persone danni gravi agli edifici alle infrastrutture al patrimonio ambientale la distruzione delle attività socio-economiche l'amministrazione comunale nelle more che si completi l'iter burocratico previsto dalla normativa ha comunque provveduto all'affinamento dei lavori per il consolidamento del costone roccioso interessato alla frana e la ditta incaricata dei lavori comincerà alle opere a partire dal prossimo 10 dicembre in cattedrale Monsignor Corrado Lorefice inizierà ufficialmente il suo ministero alla guida della chiesa di Palermo Monsignor Corrado a piazza a piazza e successivamente in cattedrale alle 17 si svolgerà la celebrazione eucaristica nel corso della quale riceverà l'ordinazione episcopale per l'imposizione delle mani del cardinale Paolo Romeo amministratore apostolico dell'Arcidiocesi di Palermo come disposto dalla segreteria organizzativa dell'evento alle 10 sarà chiusa al traffico veicolare la zona attorno alla cattedrale che aprirà i fedeli alle ore 15 all'interno della cattedrale saranno collocati alcuni maxi schermi come pure all'esterno per seguire la solenne celebrazione per accedere all'interno della cattedrale non saranno necessari pass per tanti posti saranno disponibili fino ad esaurimento degli stessi venerdì 4 dicembre ancora un colpo alle casse di Matteo Messina denaro sequestrati beni per un valore di 13 milioni di euro polizia di stato carabinieri e guardia di finanza hanno sequestrato 13 milioni a boss e fiancheggiatori fedelissimi del superlatitante Matteo Messina denaro si tratta dell'esecuzione di un provvedimento richiesto dal procuratore aggiunto Teresa Principato e dei sostituti Paolo Guido e Carlo Marzella della DDA di Palermo ed emesso dal GIP Maria Pino che colpisce i patrimoni del boss di Mazzara del Vallo e di Salemi rispettivamente Vito Gondola allevatore di 77 anni e Michele Gucciardi 62 anni imprenditore agricolo di Giovanni Domenico Scimonelli imprenditore di 48 anni ritenuto un anello cruciale degli interessi di Messina denaro uomo di collegamento con ambienti economici siciliani e nazionali affiliato alla cosca mafiosa di Partanna e di Pietro Giambalvo allevatore 77enne del clan di Santa Ninfa i quattro sono detenuti dal 3 agosto a seguito dell'operazione Hermes per associazione a delinquere di stampo mafioso e favoreggiamento aggravato dalla modalità mafiosa per aver agevolato la latitanza del capo mafia di Castelvetrano accolte le risultanze delle indagini di natura patrimoniale condotte dagli investigatori del servizio centrale operativo e delle squadre mobili di Palermo e Trapani del Gico della Guardia di Finanza di Palermo e del Rosso dei Carabinieri di Palermo il sequestro riguarda beni mobili immobili aziende a Mazzara del Vallo Castelvetrano Salemi Partanna Santa Ninfa e Trapani Valentina Pilato la mamma palermitana accusata di avere gettato la figlia appena nata in un cassonetto dell'immondizia era capace di intendere e di volere questo il parere dei periti dell'accusa Valentina Pilato la mamma palermitana accusata di avere gettato la figlia appena nata in un cassonetto dell'immondizia aveva un disturbo di adattamento dovuto al trasferimento in Friuli che però non ne avrebbe compromesso la lucidità e la capacità di autodeterminazione questo è il parere dei periti dell'accusa che hanno deposto davanti alla corte d'assise che sta processando la giovane per omicidio volontario premeditato secondo loro era capace di intendere e volere al momento del fatto che avvenne il 24 novembre del 2014 gli psichiatri hanno riferito inoltre il racconto della donna che ha sostenuto di non sapere al momento del parto di essere giunta già al nono mese di gravidanza credeva di essere al settimo hanno spiegato quindi non pensava di essere in procinto di partorire avrebbe nascosto la gravidanza al marito perché sapeva che non sarebbe stata accettata dal consorte e sperava che la situazione cambiasse prima di informarlo del figlio in arrivo la donna ha sempre detto di averlo fatto perché credeva che la neonata fosse morta anche se uno degli altri figli presenti in casa al momento del parto avrebbe riferito di aver sentito i primi vagiti della neonata intanto non è ancora stata depositata la sentenza della corte di cassazione che ad inizio ottobre aveva annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame di palermo che confermava la custodia cautelare in carcere per la donna secondo i giudici romani il carcere a distanza di 5 mesi dal terribile gesto non sarebbe la misura adeguata il caso adesso passa ad un'altra sezione del tribunale del riesame che dovrà decidere sulla richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocato della donna gli studenti palermitani si stanno nuovamente mobilitando ponendo l'accento sulla loro battaglia sulla carenza di strutture e di garanzie per chi richiede un alloggio e non può beneficiarne a causa dei nuovi parametri del calcolo ISEE no al nuovo calcolo dell'ISEE che considera ricchi praticamente tutti gli studenti siciliani a causa di un incremento esponenziale della tasse universitaria gli studenti siciliani chiamano in causa l'ente regionale per il diritto allo studio chiedendo garanzie considerati gli ulteriori tagli della regione agli etenei siciliani in merito al fatto che a fronte di questo attacco all'università non venga aumentata la tassa per il diritto allo studio è proprio il diritto allo studio ad essere messo in discussione dalle riforme di questo governo che continua a tagliare su settori come la cultura e l'istruzione e a chiedere sacrifici alle fasce sociali più deboli dicono gli studenti i criteri del nuovo calcolo ISEE hanno di fatto escluso centinaia e centinaia di studenti bisognosi dall'assegnazione di borse di studio all'oggi rendendo per molti difficile o impossibile continuare il percorso di studi quello che accade è che l'università diventa sempre più un privilegio per pochi eletti e il diritto allo studio è sempre più un miraggio gli studenti non sono disposti a rinunciare ai loro diritti e chiedono quindi garanzie concrete agli enti di competenza che non possono più permettersi di ignorare le loro esigenze per questo gli studenti hanno scelto di tornare all'azione per pretendere che l'ERSU tuteli gli studenti e il loro diritto allo studio con questo è tutto grazie per l'attenzione e ancora buona domenica grazie a tutti